Cosa hai appena visto? Che animali hai visto? Cacadù era un saltellatore dell'Australia grigio con un'unghia sola sui piedi con un'unghia sola presente in più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 20 km dal paese per la benzina. Grazie a tutti. Senti che aria calda. Adesso è accaduto un po' di coccodralli da qui. Grazie a tutti. 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 Artur River. Grazie a tutti. 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 Heartbreak Hotel. Grazie a tutti. 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 tutti. che ha bagnato. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Sono andato all'Aes Rock, all'Alice Springs, all'Norten Territory. Vanno a scagliare i moschi che fiori di Olporco. Vanno a scagliare i moschi che fiori di Olporco. Ma che bel posto. Adesso abbiamo fatto il pino di benzina e abbiamo risolto il nostro problema. Forex. Darwin. 800, 52. Quella direzione si va fino al Nord. C'è un'altra città, a 120 km da qua. E poi ancora più su, verso il mare. Qui dove mangiamo la bistecca che Vanni... Se no mi avrebbe detto... Oltre a Olporco se non stai in Australia a mangiare i bistecchi. Adesso finalmente l'ha perpudì. Ho fatto il bagno in piscina, come hai visto. Tutto bene. Facciamo alla mamma, quindi i miei tre moschi che giriamo in Turan. E' un po' di più. Appena che vanno, di Olporco, dovrai giocare al biljard. Del biljard, che? Se l'ho donato, giocare al biljard. Sì. Sì. E' un po' di più. 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 Ma cosa è quello? Sì. In questo caso vuoi fare questo, non me. Quindi, tu suoi chiedere. E' un po' di più. E' un po' di più. E' anche un pub. E' un po' di più. E' un po' di più. Vanni sei contento? Finalmente mangi la bistecca australiana. Questa qui è un filetto. come abbiamo trovato qui kangaroos in the dark be very careful yes all right because they can make big problem for you yeah i know and roads very thin and maybe no car passing through well there is sometimes sometimes and also water water on the road there too ah okay but we can go through you can go through we come through yesterday but who knows who knows how much more come through we found here the river just like this up yeah we make swim also we did swim you're crazy because of the crocodile yes because there is crocodile a woman come through last night and they go to walk the water to see how deep it is yes and crocodile there yeah but one man one man passed with the land cruises and said no no crocodile is here no you don't believe what they say ah okay it's crocodile country and it's crocodile everywhere everywhere you look water you look beautiful you want to go for a swim forget so now we don't swim anywhere because we did already you don't swim anywhere around here yeah because you've become lunch yeah exactly thank you be very careful and look beautiful you think you're safe forget yes thank you all right 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 we just left after having ate a bistec australian it was a big with that il filetto, per la mia è tanto morbido e non sempre si è fortunati con la carne e niente adesso stiamo andando verso Darwin ci fermeremo a 270 km andremo al piano perchè la sera ci sono gli animali faremo safari notturni ancora io qui non riesco a vedere niente quando sei arrivato all'albergo guardi l'albergo anche stasera vediamo il calare del sole molto bello abbiamo fatto il bagno in piscina stupendo qui c'è un bellissimo un po' serpente un po' serpente oh che bello serpente ciao ciao bellissimo buonga tuca buonga buonga la vegetazione a destra e sinistra alberi alti anche 10 metri sono le otto e mezza di sera verso le 10 arriviamo tranquilli abbiamo già incrociato tre macchine qui è l'acqua qui è l'acqua Vinciti di più. Lo sto zoomando. Sta in sua testa che va a dislevere le nozze. È probabile che la sia. Vorrei fare un bastone? No, le mie. Gli occhi. Tocca la cua. Occhio eh, calza alta. Qual è? Lo tocca a me eh? No. Mattina seguente abbiamo dormito in macchina e lì avanti c'è la nebbia. 1.640. Una nuvola bassa. 1.640. 1.640. 1.640. 2.740. 40 km a Catherine. Baby, turn your eyes Baby, turn your eyes And the light goes back to sail Coming up, oh, do you pray, bring your mind To never last and never take ah, I'm right I don't want to do anything Do an open meeting Adesso la distanza è di 3-4 giorni, siamo ancora qua. Allora siamo andati a comprare. Caterine, ufficio postale. Dov'è? Quale sarà? Qualche domenica? No, sabato o domenica? Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ecco la dì. Railway Terminal. E' la stazione di treno. E' l'ego in treno? Che bel giardino. Qui vi è Caterine Gorge, dove siamo andati a sognare. Qui è in me l'acqua eh. 8 metri. Sì. Sì. Di me? Di me? No. Però in Gier non ha quei bandiano. Paven 필요a? Ora dentro no. E' a Zonzo. 22? Abbiamo passato a Caterin Quando drivi la città la raccoglie bella venga Guarda che bei giardini cagai i bordi La prossima città Vanni quant'è? Make up on benzina? Corto? Vieni E' un po' E' un drive all'autostop Sì 500 metri Cerca il factory for driver Da stati in unienzio Ma non va vivere Ma non va e c'è Guarda che per! Hanno giusti Via Questa è molto l'automobile Qualodge kann Qui ci sono i pulmini che ti portano a fare i viaggi di due o tre giorni. Un premio di Melbourne, noi siamo qui a Darwin, parte fra tre minuti. Qui ci sono i figli. Scusate, ti sento ok? Si, per capirlo. Scusate. Scusate. Qui ha detto dove prendere i frattoletti per pulire la griglia. La sono sotto la griglia. La griglia. La griglia. La griglia. Scusate. Che ora è adesso? Scusate, mi trai qualcuno. La griglia. La griglia. La griglia. La griglia. La griglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come in America la fanno sempre come al legno e come al gas. La sfirmiamo in da selvaggio al catasso di fruscelli. Grazie a tutti. È già circa tre ore che voliamo. Siamo da qualche parte sopra l'Indonesia in direzione Singapore. Il sole è sorto, abbiamo fatto un ulteriore pisolino. Ho comprato l'aereo della Tiger High. C'è una oster lì che sembra un egiziano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono già in fase di atterraggio a Singapore. Oggi è il 3 aprile 2006. là c'è il treno metropolitana che avevo preso anch'io. qui c'è l'export. è il treno metropolitana che ha portato un'altra. È un treno metropolitana. È un treno metropolitana. È un treno metropolitana. È un treno metropolitana. È un treno metropolitana che avevo preso. Sembra di piang 10 minuti a 9 minuti 8.50 posizione budget terminal che è la Valuware un'altra compagnia low cost di Singapore l'uomo se guarda partì? chiaro resta il futuro passato però Vado a casa a dormire. E' un po' chiara, un po' chiara, un po' chiara. E' un po' chiara, un po' chiara, un po' chiara. Un po' chiara, un po' chiara. Un po' chiara. Un po' chiara, un po' chiara. Un po' chiara, un po' chiara. Un po' chiara, un po' chiara, un po' chiara. Un po' chiara, un po' chiara. 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 Perza Polà questa è tutta la pittura della mia sorella per la casa della mia sorella la mia sorella la mia sorella la mia sorella Brunello la mia sorella la mia sorella la mia sorella ok ha manca la pena perché non bella in direi oh ok e là è l'albergo dove io ho dormito all'ottantesimo piano no, al quarantesimo piano lo Stanford Swiss e ha i balconi è del potero è del potero e qui te? no Fullerton Hotel è più bello a tutti da fuori è costoso mi piace bello è 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 Ah, c'è un manganbatello! La caterina! La tedesca! Ah, anche questa è la cascata, guarda! Adolmarina mandarini! Adolmarino che catturei portavola da! La caterina è una caterina di guerra, usata nella guerra del Vietnam che è stato decommissionato. Quindi ci siamo arrivati a Singapore, abbiamo aggiungato le pietre e si può viacare sull'aria e in acqua. Quindi si tratta di una caterina e una caterina di terapeuta. Siamo tornando i due bambini in un museo, un museo, un museo, un museo. Oggi, i confini di dell'alle d'Espaque di Calma è un museo. Invene dalla caterina di Soraya è un museo. La st. Andrews Cathedral è stato usata in 1835. Il museo della grande cayeria di Singapore ha rafferty. La storia di scuola di Singapore è rafferty. Rafferty! quando sei vecchio, non c'è un tipo di pensione? non c'è pensione in singapore quando diventa vecchio non c'è durmì anche sul pullman 10 minuti davanti sul pullman ho s'arriva a ascoltare adesso andiamo in David Blanche o prima andiamo a vedere al cinema andiamo al cinema andiamo al cinema magari che... siamo rientrati qui nella Bee Blanche ci facciamo un'altra sbobbina come la chiama Vanni fantastica quella vegetariana la sbobbina vegetariana la sbobbina vegetariana a do poi la testo in me allora, facciamo un po' vegetariana condendo a 3 o 4 piselli disidratati e in questo un po' un po' no, non c'è e se in decata ascolti gli stessi sei in con sei canzone hai fatto la dolcetta? molto bene ho fatto la barba ho lavato i denti doccia asciugamano tranquillo l'acqua l'acqua era tiepida è bella passata a mezza giornata in un volo però come al tour il tour, il cibo lo sbobbette qui nella Vip Lounge a Singapore con una faccia di timore di fame e di sette perché è anche di cuori là non hai preso un goccino perché in Coppa avrei assaggiato il mischio magari dopo il sushi ma ascolta sono 3 filmati dimmi le 2 cose più belle che ti sono piaciute questo viaggio il bagno sulla strada non il girone Brunei la mia puoi fare il bagno te te le fatti dal torrente ma me te ti dai i miei era un acqua poi era mia il momento giusto uno deve sentirsi fare la cosa no? ma il bagno il bagno di sole di acqua in questa strada con i cocodrilli probabilmente lì è al primo posto poi la natura infinita dell'Australia allora l'Australia l'avevo tutta al primo posto fra Brunei Vietnam e Australia l'Australia adesso capisco perché quelli che vanno in Australia dicono ah l'Australia si ma te vedi niente d'Australia beh comunque Darwin mi è piaciuto moltissimo un verde totale perché il Singapore è bellissimo tutti i problemi che in Italia ci sogniamo ma non abbiamo non riusciamo a raggiungere a raggiungere per ovvi motivi perché siamo un po' egoisti è il secondo posto? è il secondo posto? è il secondo posto? ma il Vietnam il Vietnam là si ma cosa del Vietnam? il Vietnam il caos dei motorini con i due giorni con i due giorni che ti fanno mi ha toccato la mia città la mia città poi ho invece portato i nemai il motorino il motorino ho invece portato il motorino il motorino i tunnelati il bicicletta con i vasetti che secondo me era il Vietnam non so nemmeno che fanno l'equilibrio la bicicletta insieme tutta la famiglia io ho fissato ciao ciao da Singapore non ho ancora finito poi anche la cucina ho mangiato in dei posti in due a gara da fare il al gomit però ho mangiato gli stessi e comunque niente la biazza è unico non raro più unico più raro perché invietano il 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 traffico poi come guidano far i a manetta far i spenti nella luce per vedere se è poi tanto difficile morire ma l'ora l'ora invece ogni seconda l'ora la fa da boh eppure si cita niente va bene l'ornaibo è bellissimo che è questo il viaggio il giro nella giù insomma australia al primo posto vietnam al secondo brunei al terzo si beh abbiamo passato la groenlandia anche io immaginavo che fosse andata così perché a me l'australia bella la conoscevi e sai dove andavi a me sai che però correndo i vivacchi si prende il cellulare però sai che si fa il bagno nei fiumi appena qui a sud perché qui a nord si fa mia se hai fatto quanti aeri si no a nord in due ghera i coccodrilli d'acqua salata qui sono io sono io 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 sono io le oste stanno aiutando i vestiti carino che hanno le oste come sono magre le hokane lavoravo in una fabbrica di stuzzicadenti quella lì anche a costa Il panni non è ancora salito. L'acqua arriva a Roma Fiumicino, è andato bene l'aereo, è durata stanotte? Dice che mi aveva fatto effetto ma solo per un paio d'orette. La pastiglia è vicina. E poi cos'è successo al bagaglio? Il bagaglio ci ha fatto perdere 40 minuti perché... Arriva mai. Siamo in la Bib Lounge dall'Italia. Abbiamo già fatto il check in, l'aereo è in 20 minuti di ritardo. Chi sa che ci verrà a prendere a Pisa? La Olga. La Olga. Va bene, possiamo anche partire. La Bib Lounge è la più brutta che aveva finora? Forse non è nata, questa è la più ultima. Non è nata. E la più bella? La più bella è quella di Copenaghen, ricordate? Sì. Tra l'altro era un appartamento. Grandioso. Allora saluta che? Ciao ciao. Siamo già decollati qui da Roma, Fiumicino. Sì. 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 Mi sento molto tre cose, perché la paura fa questi scherzi. Sì. La paura fa questi scherzi. Io mi sento una persona che paura, ma... C'era S.W.A. mentre portiamo stanno decollando tigliaia di aeree ultima cassetta del viaggio Brunei tre minuti alla fine del nastro la tua ultima cassetta è la con la precedente le cose finite invece che era per incominciare dopo 5 minuti stavo infatti in Singapore dopo filmavo un po' con me adesso tengo solo la mia batteria la porta del tavolo questo dipende da te perché filmo un po' questo se ti sento e tieni potreste prestare l'altra la grossa non l'abbè l'altra invece è la frusta sei sicuro? dai dove è? dove è? due due ora arriva la batteria ma non puoi la batteria si non sono arrivato ma non è arrivato non è arrivato ma non è arrivato ma non è arrivato ma non è arrivato ma per piatto e spaghetto per quello loro mi credo che loro non è arrivato ovvero spero magari pubblicano non la sbocca che abbiamo nel zaino no questa è faglia perché se no le dici mangiacaropa che? molto di più forse un mangiacalcan a quelle le manierà in dubbio per sempre l'importante è la mia bivile serpente e la luserta ahahahahah che è il cerbiatto che era di guarni anche al cerbiatto non sono ma i vietnamiti ma a proposito ti tocca sentire che dopo che le hai guardate a casa dovrai farmene avere se da che hai un po' idea vieni alla cappella credi che ce la siamo l'aghe tirrenia l'aghe tirrenia ci sta lavorando ci siamo più no ci siamo avanti là in fondo l'aghe è migliarino il costo è sotto la nato eccoci qua eccoci qua ritornati a casa ladies and gentlemen welcome to peace the local time is un piaggio si americano ecco la quattratta che hai da fare al papà? Roma Milano Roma Tisaz eh se che piace e tu hai fet di fare sentire il salì? eh asomìa se hai da portare la trina dìasco come ho dovuto fare qualsiasi se almeno pensa ad altre cose all'inuità sconcentrami non so niente signore e signore d'Italia partner di Schettin vi da il benvenuto a Pisa sono le ore 10.30 e l'atterraggio è venuto in orario per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate ma con le bellissima i suficie